Grazie della linea Patrizio, c'è ancora voglia di estate, eccoci qua in questa bellissima giornata di sole nonostante l'anticiclone Caronte che porta con i suoi occhi di brace la temperatura oltre i 52 gradi vedete i più temerari che si godono il bagnasciuga ma l'importante ok vai uno di gli tuoi gesti sgrana, scarica, giuri, guarda via 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 ho un'altra ancora dai stop, perfetto sgrana e trema, scaricalo via 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 3, 2, 1, vai fare la leccata di nuovo ok 3, 2, 1, azione incazzate voi due incazzate vai dategli, dategli, dategli dategli non mi va di restare qui in città mangio di brutto bravissimo bravissimo oh no, non mi va di passare una bellezza e non mi va di vårdno no, non mi versare qui in città la fiducia in città no, non mi va di restare qui in città in città in città non mi potere kau vero 3, 2, 1, azione Vai Dagli giù, dagli giù Spacca tutto, spacca tutto Dagli giù Stop, buona